Vi è mai capitato di fare delle ricerche Google di cui poi vi siete pentiti perché vi siete resi conto che la costruzione che avete utilizzato per scrivere la ricerca aveva palesemente qualcosa di forbiante? Perché a me è successo l'altro giorno che stavo cercando, in realtà due cose, stavo cercando i fori delle orecchie a forma di stella e ho cercato buco a forma di stella e già dopo qualche immagine Google ho detto c'è qualcosa che non va. Ma sai che ti dico? Io lo lascio andare così, vai. Ma l'orecchino. Ah, il lobo? No, no, il lobo. Il lobo è l'orecchino, cioè il lobo è il pezzo dove c'è l'orecchino. Tu dici proprio il canale oricolare. Come si chiamano i dilatatori? Esatto, tipo un dilatatore probabilmente. Quindi parliamo di un gioiello? Però incastonato dentro, non ti dico che è un dermal, però anziché essere circolare, tipo un gioiellino, era a forma di stella. Ok, ok. Ma ti è così complicato dire di sì e basta? No, non avevo capito che, cioè perché pensavo che lui cercasse, raga, non scherzo, proprio le persone che anatomicamente parlandoci avessero il condotto uditivo a forma di stella. Dico, Daniele, this is not Narnia. Capito? E l'altra invece stavo, dato che mi era... Io giuro, poi io ho chiesto, ma quindi è quello? Sì, sì, quindi pensavo fosse che esiste sta roba nel mondo. Sei giustificato solo perché io sono un certo tipo di persona che può arrivare a certi pensieri. Ma in che totale c'è, infatti... Però qui ti dimostra che c'era una retta via. Sono io quello strano, infatti. L'altra, neanche, guarda, un applauso alla stranezza. Inneggiamolo ogni tanto la stranezza, che già non basta. Ma no, è in un vantaglio. L'altra invece era quando ho cercato, stavo cercando, la ricerca che ho fatto era ciambelline per il culo. Stavo cercando le ciambelle quelle che... Allora, però facciamo un attimo un passo indietro. Cosa cazzo cerchi? Rivedi le tue priorità, Daniele. Dispositivo medico per non far... Cioè, dispositivo medico? Questo è high professional, ragazzi. Ma hai le emorroidi? No, c'avevo una cistina che mi si era venuta sulla chiappetta e quindi cercavo un modo di sedermi senza che mi si invastidisse. E quindi cercavo le ciambelle per il culo. Non ho cercato per il buco, però ho scoperto che ci sono tipo dei plug anali, tutti quanti a forma di ciambelline, tipo di Homer Simpson. La gente si avrebbe divertito. Proprio sex toy, dici? In modo acrobatico, Sandro. Ma ti posso dire, ma gustoso ho dato questa ciambellina pure. Glassate. Ti vuoi sentire un po' il commissario Winchester? Avete mai fatto una ricerca del genere? No, Daniele. A un certo punto avete fatto... No, cazzo, però effettivamente è un po' forviante. Io una volta avevo scritto donne spagnole perché volevo vedere... Ma ragazzi, infatti è uscito il mondo, io sono stata ferma. Questo, io di questo avevo bisogno. Vedi che c'è quella ricerca che non ci fai? La sin sicura fa un approfondimento sulla cucaraccia, invece alla fine... Esatto, alla fine mi è uscito un altro tipo di cucaraccia. È stato un altro approfondimento. E ha scoperto che ci si può divertire. E poi la cucaraccia è spagnola. In tanti modi un po'... O è messicana? Beh, comunque... Se mi cercate, raga, forse è una stronzata. Ebbè, ne abbiamo detto molto di mezzo. Per me questa è la più ingenua, ecco. Tutto dà. Perché può essere... Dai, può essere che è messicano. Cucaraccia. Motivo musicale di un famoso corrido messicano. Messicano? Vedi, cazzo, quindi sono un cafone io. Ma tu guarda, nelle pieghe della risata, come noi comunque diamo quel tipo di cultura... Oggi, ragazzi, sapete che Messico è diverso da Spagna. Mi associerete a livello mentale perché stiamo parlando di spagnolo. L'ora esatta è offerta da... Sandro. Bob. Il podcast. È quella chiacchierata tra amici nel bar di una vita. È quando il dobbile ti mette in moto e la vita si incasina e tu vorresti solo staccare la spina. È quella finestra sul mondo dove puoi guardare... o essere guardato. È quel bicchiere di vino che ogni tanto ti concedi, ma che in compagnia ha tutt'altro sapore. Io sono Sandro. E io sono Lele. E questo... Questo è Bob. Il podcast. Ma ancora, me li ripete. Oi, 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 oi. E questa è l'ambulanza dei tuoi sogni. È lo jodel. Ho deciso di iniziare la bella mia... Avete visto quei ragazzi su TikTok che ogni tanto mi capitano, che stanno su quel bellissimo panorama, che cominciano a fare così... E cantano lo jodel. Il ragazzo... Voi l'avete mai visto il ragazzo al supermercato? Il ragazzino al supermercato? Sì, è famosissimo. Sì, sì, sì. No, però forse ho visto quello cresciuto. No, per forza l'hai visto, perché poi sto suono è diventato viralissimo dopo del bambino al supermercato. 2020. Biondo, Walmart, festivali da cowboy. No, se tu mi dici bambino biondo, io penso solo a quello che fa... Yes! Ci somigliava però, eh. È vero. January, February, ma... Jason Derulo. No, madonna, ma che mi attivi nella mia testa. Chef kiss. Per me, la faccia di quello, io ce l'ho qua. Cioè, se io lo incontro per stare ipoteticamente a Las Vegas, non so dove, cioè, gli direi tipo no, tu sei quello di Jason Derulo. Io penso che riconoscere il ragazzino che fa Hurricane Katrina, no, Hurricane Turchella. Probabilmente è quello sì. Come stai, Sandro? Allora, bene. Oggi per noi è sabato, quindi comunque un inizio di qualcosa, a start of something new, direbbe... Certo. ...Abrilla Montez. Una donna più grande di noi. Esatto, molto più famosa di noi. Che ha una sorella che ora ha aperto un OnlyFans, Stella Agents, l'ho detto l'altra volta, raga, eh. E lei è in finta. Stella? No, Vanessa. Ah, Vanessa. Ma con chi sta, perché scusatemi? Vanessa o Stella? Vanessa. Non lo so, stavo lasciando la parola a Martina che di solito ne sa tutto. Pensavo... Pensavo che è un attore barra... o sportivo. Ok, no, pensavo... L'anno il giovane avrebbe pianto dicendo che adesso non sta con Troy Bolton. Eh, capito. Prego un cazzo di Troy Bolton. Lei doveva sposare Austin Butler e doveva fare figli con Austin Butler. Eh, ma Austin non voleva. Ah. Il motivo è che non voleva avere figli? Eh, allora, si dice che lui non era pronto a comunque andare avanti nella relazione. Cioè, dopo dieci anni, se tu non mi chiedi di sposarmi, comunque... Vuol dire che qualcosa non va, certo. Beh, le saffi che... Oh! Le saffi che insegnano che bastano due mesi per andare a vivere insieme. Io, raga, posso dire, Austin Butler non mi piace moltissimo. Sandro! Ma comunque... Guarda, la stiamo a sconfoggio oggi, tizia. Ah, sì. E' Cole Tucker, che è uno sportivo professionista di baseball. Ok, oddio. Ma tipo il fratello di Shakira. Chissà, sei un po' rinsapita, perché era un po' pazza, no, Vanessa Agents? L'ha preso tutta la sorella. Madonna, la sorella. Madonna, la sorella. Io mai vista sta stella, raga. Come provocangi. Poi me la fate vedere, ma cioè perché è buona? Allora, sembra molto la sorella, sembra molto Vanessa Agents, quindi lo riconosci che sono sorelle, però diciamo che ha dei lineamenti un pochino più... Vanessa Agents, di cos'è metanazionalità? Americana e... Messicana? Portoricana. Eh, ha dei tratti... La sorella, secondo me, sono un po' più marcati, un po' più etnicamente presenti. Immagina quanti... Super positiva. Cioè, quanti giovani ragazzini che conoscevano l'Agents per Disney Channel si sono iscritti all'Olafanzo di Estella pensando, oddio, mamma mia sorella, cosa gli farei, capito? Così mi immagino di sta copanezza. Allora, Vanessa Agents è mezza irlandese e mezza filippina. Allora, ti giuro, lo volevo di filippina, però poi ho detto Martina mi comincia a fulminare perché guarda, Daniele... Oddio, c'è... Ma è Susanna a fare la shade a Shay Mitchell perché ha rinnegato le sue origini filippine. Rinnegato? Shay Mitchell, spieghiamolo, quella di Pretty Little Liars, la saffica di Pretty Little Liars. Ah sì? Sì. Mi dimentico sempre questa cosa, me l'ha detto 40 volte che... Sai con chi stava nella serie con la tipa di Ned Square di sopravvivenza. Ok, vabbè. Boom. e niente, in un podcast ha rinnegato perché lei ha detto perché io sono metà spagnola. Ma è vero, regà. Ma è matta. Quanto è buona, Shay Mitchell. Ma la possiamo dire. Perché menti su una cosa del genere? È come se Daniele mi dice no, in realtà sono milanese. Cioè, raga... Beh, mi madre per metà. Beh, un po' la... In totale, mi dice sempre. È vero, è vero. Infatti proprio Milano ha detto sono un coglione. Infatti, infatti. Quando dice che il suo secondo nome è Oliver. Ma tu, sì, è vero. Però, andate ve lo ricordate. Ma poi, zizi con chitando mi chiamo Ossobuco perché sono milanese. Sì, amore. Poi mettevo per la bistecca, non per altro. A me sta zitto. Ascoltami, lo sapevi che la tipa di Ned Scuola di Sovravivenza ha fatto un podcast insieme agli altri due. Il protagonista è l'altro ragazzo. È stata una reference di POV per un po' di tempi. Esatto. E ha pianto in una puntata in maniera greve perché ha ringraziato tantissimo coloro che sono dietro la regia di Pretty Little Liars perché lei non ha capito se avesse tentato dei gesti un pochino più brutti in quel periodo ed è stato proprio quell'ingaggio attoriale che le ha dato modo di superare quel momento. Qualese io con POV. Come la Culli. Giannifer Culli no, chi è quella che ha fatto anche lei ha detto che è stata presa in un momento in cui ci sono quei momenti che la vita ti dice tu devi rimanere qua non ti permette e la vita ti dimostra che questo è il tuo posto. Mi ha fatto ridere perché è stato sì che era depressa ho proprio due. Sandro stocaniamo che è importante bravo no perché ha detto ad una premiazione ha ringraziato Mike White dicendo se non mi avessi raccolto tu magari non mi trovavate nemmeno una roba del genere è il discorso che vi farò quando vinceremo qualcosa se non mi avesse preso in quel periodo davvero cioè fosse stato il 2019 cioè salvata a tutti la zizia la raccoglievamo a manco del cucchiaino con la cannuccia e invece poi è arrivato Bob però posso permettermi però quelle cannucce che fanno tipo Danecci a Torpigni a Pigneto che sono con la pasta lunga perché zizia anche contro lo specchio di plastica vaffanculo posso dire quelle in vetro estetica che vogliamo fare Sandro ci servi da bere per favore? oggi che cos'è oggi Sandro? dovremmo fare una puntata sul nulla di solito parliamo sempre di queste cose chiacchiere contate guarda il mixer che si è bagnato exploding mixers è idrorepellente comunque questo è un nuovo Poveri Voi ed è un Poveri Voi parte 2 di una puntata di una tematica di puntata che vi ha aspetta Sandro si torna un attimo a servirmi la quantità di vino che serve agli infami Sandro per cortesia si infatti dicevo immaginavamo vi sarebbe piaciuta la puntata sul paranormale così quindi un po' ce l'aspettavamo ma in realtà non ci aspettavamo invece la partecipazione anche per la parte 2 cioè avevamo già materiale ma ce l'avete mandato comunque altro interessante quindi abbiamo raccruppato le idee abbiamo lanciato la zizia in mezzo alla selva selvaggia delle storie di Poveri con della salvia perché comunque le storie erano spuche quindi lei si è protetta un pochino nel corso del e tra l'altro ne siamo usciti con la zizia che ci ha detto prima della puntata avete delle storie bellissime quindi sono di parte perché ve lo dico praticamente lo stavo dicendo zizia ormai è diventato un po' ogni scarafone bella mamma sua quindi è abituato ormai a di che belle le puntate in totale poi comunque varie esi cioè sapete come funziona no? vergognati ma questa è sono un attacco lombardo un attacco lombardo quasi svizzero un bosciatico no ma quando mi ha letto non mi ricordo se lui o Marti ma tu per me sei svizzera ma che cazzo dici? solo perché sono vicino alla Svizzera questa cosa mi ha scioccato però sai che ci ha educati molto zizi a percepire Varese proprio al confine con si ricordi quando ci faceva uscire faceva sentite questo odore è la Svizzera che a proposito di Svizzera stasera compete con l'Italia quindi questa puntata è prima della partita allora noi stasera non guardiamo la partita mettitelo in testa io voglio magari qualche sinuto ragazzi non vi garantiamo ti mando io gli aggiornamenti grazie non vi garantiamo che in una settimana Sandro possa cominciare a piacere la figa la diamo al 3 1, 2, 3 jingle poveri voi eccoci ora ti sentirà zizzi che hai detto odore di piedi? no, no, no però non lo mettete lo taglio lo tagliamo lo tagliuzziamo e l'odore però non lo possiamo tagliare quello ce lo teniamo tagliate c'è odore? no, no sentite odore di piedi? io sento la salmonella possiamo lasciare questo pezzo anche per sdoganare il fatto che se la vostra amica puzza nei piedi io dovete dire non può andare in giro noi non l'abbiamo detto perché non è vero noi abbiamo con la zizzi abbiamo una facilità aggiuntiva perché comunque la zizzi è molto diretta su sta cosa e ti devo da stimare cioè di solito cerchi di coprirla la vergogna la zizzi si leva le scarpe e fa se sentite la bomba atomica so io no, no lei poi ti prende in conto i piedi e ti guarda proprio negli occhi nell'anime e ti fa mi puzzano i piedi che se tu non puoi me indire se tu lo pensavi veramente tu non puoi me indire lei ti sta facendo uno screening tipo la macchina della verità dice che è falso allora oggi inizi tu tocca a me allora ci scrive raccordami di più chissà sarà una cinematografia lo scopriremo o un grande raccordo anulare amo io ce l'ho una storia paranormale Cagasbau ci dice era il primo anno a Roma e stavo con il mio ragazzo dell'epoca in macchina eravamo sul raccordo non ricordo precisamente l'altezza perché fra una cosa e un'altra ci passavamo anche più volte al giorno amo tranquillo un cerchio mi perdo non so dove sono la disney direbbe è una giostra che va no giuro io non so dire cioè vi dico uscita 13 ma non è vero non lo so io forse da un tipo dalla 18 alla 13 le riconosco perché per motivi vari ci sono uscito spesso quante minchia di uscite ci sono scusate 25 26 8 ma io sono mai stata sul raccordo e si con me sicuro pure con me in macchina con me sicuro a un certo punto mentre chiacchieriamo e andiamo a velocità relativamente contenuta vedo una persona con una maglia bianca e un paio di jeans attraversare che però spieghiamo è greve se vedi qualcuno attraversare nel raccordo perché è un momento dove la gente va high speed oltre che strano proprio a livello strutturale per il gra è anche strano perché aveva lo stesso abbigliamento di tutte le come si dicono le recite degli elementari cioè lui era vestito esattamente come tutti noi quindi perché in realtà voleva essere una persona X maglietta bianca e jeans anche gli spettri inizialmente non vogliono farti capire dove stanno andando quindi dico io sono uno X è fine giugno tu sai che la maglietta bianca e jeans è l'outfit giusto per la recita e non devo lamentare capito sì attraversare il raccordo correndo e sparire nel muro separatore quindi ci fa notare anche lei che il modo in cui è apparso era correndo va a sbagli contro il muro separatore e che non era normale che ci fosse una persona lì in quel momento mentre vedo questo ovviamente l'istinto mi viene da urlare attento attenzione attenzione ma io poi attenzione mi viene in mente Matteo Varini com'è che si chiama sì sì che fa la signora non lo so lo amo e fortuna che il mio ex era un camionista quindi sapeva guidare e non ha causato un incidente oppure l'ha fatto tipo ah signora infatti io non sto pensando che al camionista adesso posso spaventata gli dico che cosa ho visto glielo giuro cioè gli dico amo guarda ti giuro io so visto proprio questo con la maglietta bianca lui memorizza l'altezza a cui stavamo bravo comunque lui in questo è veramente il camionista secondo me e quando torno a casa cerco su internet cosa fosse successo a quell'altezza specifica madonna comunque che bravi loro e la notizia che scopriamo è quella di un ragazzo morto qualche anno prima in un incidente proprio a quell'altezza oh fine non ce sto a credere allora io posso prima fare una domanda all'ex ha detto giusto l'ex camionista quindi mannaggia amo se ti senti ancora col tuo ex posso fare una domanda al tuo ex cioè io puoi fare questa domanda alla parte mia e poi mi dici cosa rispe innanzitutto speriamo che non si sono lasciati un modo brusco altrimenti stai obbligando una patatina ti sto dicendo solo se ci parli ancora siete in buoni rapporti se no tranqui nel senso lo chiedo a qualcun altro anche se comunque è un dubbio che mi porto dietro da un po' perché ho la pagina tiktok del mese scorso una cosa passata piena di video di camion non lo so raga i tipo incidenti improbabili per strada sai quando ti superano e stai per morire ma non mori quelle cose così e molto spesso succedono in Italia e sotto ci sono i bestemmioni in italiano a un certo punto ho visto un video di un camion cioè era proprio il video la mentela di persone random per strada che dicevano perché i camion in autostrada che sorpassano altri camion e per un breve periodo ti barrono la strada sotto a questi video che erano video la mentela di automobilisti non camionisti c'erano camionisti che scrivevano ma raga tanti e soprattutto con un sacco di like palesemente da altri camionisti che ho scritto tipo eh dite queste cose perché si vede che non siete camionisti si vede che non vivete la strada come lo viviamo noi e allora mi sono chiesto ma perché dicono così in che senso perché ci stanno 24 ore al giorno sì probabilmente sì ma c'era proprio una cosa che noi si vede che non comprendete cosa non comprendiamo io sono troppo curioso di scoprire qualcosa in più riguardo a questa cosa allora in realtà io ti voglio dire cosa che non capiamo mi hai asgamato e te lo confermerò delle note del telefono questa sarà una puntata che volevo portare di POV e ti sto per giustificare il perché ho due persone che io conosco che praticamente lavorano all'interno di quest'ambito ok del camionismo diciamo mi posso chiedere a te no però non non sono su strada si occupano della parte che c'è dietro magari un pochino più e anche grazie a dei tiktok che mi sono capitati perché ovviamente sai quella è la paura che io dopo che ho parlato con queste persone sul mio tiktok personale di Daniele sono cominciati a uscire questi video anche a livello un po' di sesso è tutta una cosa perversa tra camionisti sono persone che passano tanto tempo per strada ci sono un po' tipo dei raduni sessuali che fanno i camionisti che si radunano tra loro che veramente per loro raduni sessuali ragazzi ogni buco è trincea ma io non metto neanche in dubbio che magari buono solo ah ecco aspetta io pensavo Daniele facesse il reportage che fosse un giornalista di report invece stava solo a cercare un porno secondo me anche sul fatto se metti un pupazzo sul cruscotto davanti sul cruscotto del camion tendenzialmente vuol dire che hai una preferenza per i bambini ma poi io avevo letto questa cosa poi non so se sia vera non voglio fare falsa divulgazione però ci sono un sacco di teorie su queste cose stiamo facendo la faccia o punto o oh ma guarda che anche su negli autogrill certi gesti che tu fai per far capire i camionisti c'è tutto un mondo oh sì sì io sapevo che se giravi a questo però dalle mie parti se giri tre volte intorno alla rotonda dell'Ikea vuol dire che vuoi scopare guardate perché la serietà di loro due quello voglio scopare giuro raga ma poi chi ti sta guardando mentre tu fai tre giri infatti c'è tre giri dell'Ikea ma gira su se stesso vuol dire che se continua a girare tu stai cercando capito ma poi Sandro non ti devo raga ma è successo eh sì lo segui perché a quel punto poi finita la rotatoria vi cercate un posto eh polizia però raga giuro io cioè siccome ho visto questa cosa io non guidavo ero da parte del pilota e stavamo scherzando perché avevamo palesemente visto questa persona che girava sulla rotonda specifica vicino a casa mia bla 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 e raga ci ha inseguito ci ha seguito dopo perché noi abbiamo rifatto il giro capito scherzando raga c'è un po' ci ha affinato capito in quel punto non vogliamo il copano loro pensavano che voi volessi scopare è palese però è una macchina piena abbiamo un'orgia ho letto c'è scritto nel Regno Unito i peluche sui camion sono vietati per motivi di sicurezza in quanto si teme che possano indurre i bambini a correre nel traffico ah ok comunque poi ovviamente declinata in mille leggende metropolitane però oggettivamente se ci pensi il bambino è attratto dal peluche vabbè io ti posso dire che tutto il bene ce l'hai avuto pure tu Grindr cioè i camionisti che si fermano o che creano raduni cioè che sia un mondo che nasconda i suoi lati un pochino perversi tipo le orge eccetera ma come quando siamo finiti a parlare ti posso dire infatti una patatina ci ha raccontato di lei che ha visto una persona morta e noi che stiamo a parlare del zesso fra camionisti possiamo persone posso dire però quello che vuoi sembrava che fosse qualcosa che tutti e quattro avessimo bisogno di parlare perché tutti abbiamo uscito qualcosa è stata quell'occasione in cui fanno ma Daniele che dite dovremmo trovare un camionista piuttosto spigliato e chiamarla a poco sì che poi c'è con tutto il bene però posso dire spigliato però se no no vogliamo far TikTok con uno lo troviamo ma vi chiedo vogliamo veramente fare luccarelli della situazione cioè vogliamo veramente andare a dentro un mondo che magari vuole essere nascosto scusate dato che molti non conoscono quello che c'è dietro noi a POV come facciamo proponiamo un'idea e facciamo chi è d'accordo quindi lo chiedo scusa ma non potremmo essere quelle dei fanpage che hanno trovato il bordello a Fratelli d'Italia sarebbe stato stupendo POV per inchiesta due punti camionisti che nascondete raga oltretutto la seconda parte del video di fanpage dove fanno vedere quello che è successo sull'inchiesta copyright left fatto di proposito affinché chiunque può non soltanto sticciarlo no no proprio ricaricarlo cioè non soltanto fare come si dice lo repubblico e però faccio vedere che la fonte non sono io lo potete proprio ricaricare re-uploadare esatto da creator perché è fatta apposta per divulgarle il più possibile dovremmo fare cose copyright left tipo la zizzi la potremmo farla lei no ma soprattutto zizzi copyright left vogliono dimostrare non ti permettere vogliono dimostrare che è più importante che venga divulgata la notizia che venga acclamato chi l'ha fatta anche perché è arrivata con una risonanza che ormai non è più macutile cioè è tutto così esponenziale ma vabbè comunque un unico commento che voglio fare alla storia della patatina che ci ha detto infatti io credo che questo sia uno di quegli esempi in cui voi perché eravate sul raccordo ma a me sa sul cazzo tutti quelli che no io ho una storia ero con una persona a un certo punto abbiamo visto una tipa molto magrolina che sembrava tipo sul pallido che aveva tipo un vestito tipo pigiama che ci ha chiesto un passaggio e l'abbiamo fatta salire perché? cioè io dico non è che vedete una famiglia di persone che poi non è che alcuni sono più meritevoli di altri di essere aiutati ma una ragazza che sembra una banshee in mezzo a un bosco io eviterei capito ma anche solo per chiedi al prossimo Gianfranca ma anche solo ma la segnali su movit cioè nel senso ma non è su Waze la metti come la metti come autovelox mobile su Waze che tirate pure che quello dopo vede c'è ancora il fantasma sì è ancora lì comunque ecco queste situazioni io cercherei di evitarle ma tu sei una grandissima true climer perché mi sei andata a cercare ho avuto paura ti conseglie una bocchina ma scusate questa è andata a cercare il ma il ragazzo poi che posso dirti se a me la persona no ma mentre guidavamo ho visto io il chilometro della strada noi tromberemo e ti dico io a quale chilometro perché sei una di quelle skills che a me fa un po' sesso capito se tu nel metro mi fai non ti preoccupare ho visto io il chilometro è dal 55 al 66 noi stiamo we're gonna fuck comunque bellissima storia mi piace perché racchiudo un po' tutta la questione del presenza in mezzo di strada se posso aggiungere una cosa velozissima e posso dire che il protagonista della storia non sono la patatina e l'ex camionista è anche il gra perché secondo me il gra è un posto liminale è tipo un non posto palese è un posto che vi porta negli altri posti dove nessuno vogliamo stare cioè nessuno vuole stare su gra mai in qualsiasi giorno grande l'accordo anulare se no sembra tipo una stagionatura di formaggio esatto non c'entra niente i lattizzini non c'entra nulla e secondo me anche il gra ti dico il protagonista di questa storia è esattamente perché erano sul gra abbiamo visto questa persona che infatti correva se ne voleva andare anche il fantasma non vuole stare sul gra però c'è finito cioè nel senso che deve fare come il vero protagonista di shining e l'overlook hotel è capito è l'hotel the shining e quelle cose cioè il gra è il terzo personaggio principale della storia ugenti merado 24 io ci rifletterei allora tocca a me e ci scrive amo si sei vorrei raccontarvi di quella volta che io mia sorella più grande di me di tre anni e mia cugina canadese quindi barzelletta totale ci ritroviamo ad essere mentalmente collegate da una nostra antenata no 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 Sandro di vicore vuoi sapere ho pensato stai a cuore oddio ti prego voglio sapere partiamo dal partiamo dal presupposto che nel paesino sperduto in cui vivo io e mia sorella abbiamo vissuto con nonna e altre vicine di casa che ci raccontavano aneddoti su streghe fate e altre cose paranormali è nonna l'evento spuchi è la nonna l'elemento spuchi e poi la fatina della casa che non va salutata ricordatevelo ragazzi non salutate la casa noi sempre molto incuriosite attratti da tutte queste storie ma con la pseudolucidità capivamo che fossero tutte cose tramandate ma anche inventate fino a quando un bel giorno io e mia sorella decidiamo di spingerci un po' più in là ma quella pseudolucidità mi fa troppo di quelle che vedono un'ombra e fanno ma quanto sei scema non sai che non esiste e poi riguarda esatto decidono insomma decidiamo di spingerci un po' più in là rispetto al solito percorso nel bosco che facevamo ormai abitualmente da anni io mi piscio che loro fanno il giro nel bosco cioè stiamo dentro Harry Potter fa un po' Twilight ognuno ha pensato a quello che vuole ricordiamoci il contesto piccolo paesino quindi comunque ci sta anche noi andiamo al fiume amo da me sarebbe la selva cioè questa cosa lo fai con la selva la selva oscura? no penso che sia dei lupi la selva dei lupi perché ogni tanto si sente potrebbe anche essere cruising ti invito a capire la prossima volta che venite facciamo un giro alla selva quando è un po' notte raga pausere Marti fa il vlog dai totale oddio poi fanno più 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 abbiamo visto un lupo più 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 questo è tutto quello che dicevo quando prima dicevo se vedete una tipa magrolina vestita di bianco non vi fermate noi qui invece andiamo la sera alla selva se vedete la tipa magrolina come sia di bianco è Martina che sta a fare il vlog che poi posso dire ma quanto body shaming sto facendo nel dire che i fantasmi sono sopra magrolini chiedo scusa la morte ti fa dimagrire la magrolina oltre che te fa bella capisci lei allora nostra nonna ci portava sempre nel bosco ora ci spiega il contesto sia verso una sorgente che in un piccolo laghetto dove andava da piccola per rispettivamente prendere l'acqua e lavare i panni quindi madonna la nonna la sorgente i panni Sandro qui stiamo proprio attirando verga verga incontra jk rowling io adoro e non la verga quella non incontra jk rowling perché è transfobica ma quel giorno qualcosa ci attrae attraverso ci attrae altrove e sentendoci xina e olimpia iniziamo a farci strada tra sterpaie quindi raga qua reference pop a rotta di collo e saffiche anche si fanno strada insomma tra sterpaie boschive che suzza no no xina e olimpia non sono sorelle no però tutte no ma le protagoniste della storia si no 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 cazzo è vero sono sorelle ho detto una cosa xina e olimpia ci danno traffic vibes loro no perché sono sorelle con la cucina attenzione grande zizi che un attimo mi hai ripreso ripeto l'ultima parte ma quel giorno qualcosa ci attrae altrove sentendoci appunto xina e olimpia iniziamo a farci strada tra le sterpaie boschive finché non troviamo una vera e propria osi di bellezza e benessere era un bosco era cuciderme un deserto un laghetto naturale con acqua limpida e circondato da rientranze delimitate da cascate di fiori con tanto di un tronco caduto a farci la passerella raga ma dove siamo andati noi quando la cartiera papale moca chiuso vi ricordate che siamo andati al fiume in ascoli io non c'ero amo amo and never been to river per me tu ci sei sempre nei miei pensieri che siamo andati là che abbiamo trovato quella cosa esatto perché era crollato un pezzo di ponte siamo andati in un altro punto e la vita ci ha graziato dicendo beccate sto punto de super natural quanto cazzo è fredda l'acqua da mori che bello era uscito mi ha detto sembra che hai sei anni la pelle era no tirata pensavo che ti eri ritirato tu capito sarà colson che sei uscito qualcosa mi si era ritirato è subito bagno rigenerante nell'osi boschiva ci immergiamo nell'acqua fredda ma piacevole con il cane a farci la guardia e mia sorella nota che da lì si vede la casetta nel bosco dove abitava una nostra prozia ma loro un po' wiccan che se non si tirano indietro i capelli così mentre escono dall'acqua hanno fatto pure un tiktok parese casetta e rovina dove nonna ci aveva detto di non andare perché temeva che ci saremmo fatte male e perché la nostra prozia era stata molto strana cioè ci sono tutti segnali ragazze molto strana che poi vabbè e magari forse è un po' lesbica la prozia e basta allora innanzitutto fatti cazzo vai avanti a leggere scusami perché strane sinonimo di lesbica no mi faceva ridere pensare alla prozia lesbica scusa mattina perché perché le prozie non possono essere lesbiche infatti perché devono essere strane amo perché siamo comunque cioè tu conta che era la prozia quindi in anni tipo capisci aspetta infatti andate avanti non ci sto credendo io mi sento offesa comunque Renga diceva siamo fatti per amare Daniel ha dimostrato l'ennesima volta che è un paraculo ha rigirato la frittata come ho fatto un flip sta frittata immensa perché ero io nel torto palestra quindi uscite dal laghetto molto strano l'ho letto giusto allora quindi uscite dal laghetto decidiamo di avventurarci verso la casetta proibita fin quando il cane inizia ad abbagliare fortissimo a questo tipo i pokemon che loro lo sanno convinte che ci stesse avvertendo per qualche pericolo ad esempio che ne so tipo i cinghiali decidiamo di rimandare la visita eh no amo eh no cioè qua la sizia andava dritta che poi non è un pericolo cioè si dava al cane perché comunque basta hai rotto e poi col cane addormentato si entra capito totale tornando a casa iniziamo a farci domande con risposta sempre evasiva la zia veniva considerata strana perché vestiva sempre di nero no 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 adesso adesso senti vestiva sempre di nero non era mai stata sposata e diceva cose che all'epoca che all'epoca di mia nonna venivano considerate sataniche Martina nel 2024 a San Cesario no chi è stata Cluedo Martina a San Cesario l'altra sera con un vestito nero fate voi che qualunquistica siamo ancora più incuriosite decidiamo quindi di andare troviamo una casa abbandonata piena di polvere vedi che non puliscono mai casa vedetela con oggetti con oggetti qua e là ma niente di che un po' di ruse torniamo a casa quella notte sia io che mia sorella sogniamo questa zia io riuscivo a vederla solo di spalle senza riuscire a parlarle madonna ma comunque raga cioè stress orale quando si dividono che brutto un attimo streghe ce le insegna esatto una si sposa l'altra vive a Milano e un'altra muore e viene un'altra Leo streghe perché poi c'è stata la faida ma di questo ne parleremo un altro giorno mia sorella invece la vedeva scrivere perché allora lei la vedeva di spalle scusate stiamo usciando un sacco dalla storia invece la sorella la vedeva scrivere lei infatti decide di tornare nella casetta senza di me e di scriverle una lettera ma sei matta amore ma soprattutto perché non lì c'è la sorella cioè che fai eh perché lei era la main character in quel momento cioè doveva ok 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 aveva una missione se qualcuno deve parlare con l'antenata so io ci sa sento io ci sa posso dire presuntosa sto cazzo la vedo proprio io amore chiediamo alla sorella se è lesbica ma perché l'avete con le lesbiche oggi non lo devo capire che stiamo sannando ma io ho detto che non pulisco non puliamo siamo strane cioè che vestiamo di nero almeno siamo chic però ci distociamo amore o posso dire il sottotitolo della puntata non sarà piccoli brividi ma piccole saffiche e Gaia posso l'accompagnare l'inchiostro della penna finì nel momento in cui termino di scriverla e il vento la spinse contro un baule che nell'ultima volta non avevamo che l'ultima volta non avevamo visto stranamente non avevamo visto stranamente sto leggendo di merda e aprendolo il baule mia sorella scoprì lettere libri eccetera in diverse lingue soprattutto in francese tipica lingua saffica e riuscì a capire cosa fosse successo a questa povera zia emarginata tu ti ricordi che Gaia fa sarro la tua dea saffica io la sento forse è di Bordeaux probabilmente subì una molestia nel paesino e per non perdere l'onore si trasferì in Francia ma ritornò probabilmente con il cuore spezzato ah povera una storia di amore finita male non sappiamo se da una donna o da un uomo nel paesino tutti la evitavano e così si chiuse quella piccola casetta cioè Martina che sta sbraitando ragazzi voi non la vedete questo non ha scritto Sandro però eh roto il cazzo nel paesino tutti la evitavano e così si chiuse in quella piccola casetta dove nessuno osava entrare tranne mia nonna fino a quando la trovò morta però posso dire se fino a questo momento voi non avete immaginato la prozia era prozia come Sarah Paulson avete mentito io l'ho immaginata dall'inizio alla fine come Sarah Paulson io come Jessica Lange questa è Jessica Lange che mi dice so io però ecco tu Sarah Paulson comunque Coven sai esatto noi tre siamo allineati su questioni American Horror Story mi piace completamente Coven tutta la vita vi posso dire io mentre sto leggendo noi vi diciamo ragazzi come vedete dal video noi leggiamo le storie dal telefono perché abbiamo deciso a un certo punto di smettere di stampare per motivi ecologici quindi leggiamo dal telefono che storie che ci mandiamo sul gruppo Whatsapp in pdf in pdf ma senti io raga vi giuro sto leggendo questa storia nel frattempo in un gruppo stanno mandando una cosa come 30 40 50 notifiche io leggo e intanto con il dito faccio così stessa di cazzo silenzia il gruppo no ti giuro sto per urlare dentro gruppo telegram delle patatine ricordiamolo no no zero non era telegram era su Whatsapp comunque salutiamo tutti quelli che sono sul telegram anche perché telegram non disturbano mica questo è il discorso torniamo alla storia ci raccontò che all'epoca la pulizia non era il massimo ma quando andò a spogliarla aveva un corpo pulito abbastanza tonico e profumato sotto tanti strati di vestiti tanti strati di vestiti cosa che fece ingigantire il fatto di considerarla una strega forse vi starete chiedendo l'hanno trovata morta dentro casa dentro casa mentre indossava diverse paia di vestiti dato che comunque la proiezia era un po' emarginata l'unica che le faceva visita era la nonna di queste due ragazze in una delle visite l'ha trovata morta e diciamo che all'epoca la pulizia non era granché ma lei stranamente era pulita profumata con vari strati di vestiti esatto e quindi questo tutto ciò ovviamente accredita l'ipotesi di una proiezia strega a meno che non stesse partendo con Ryanair e aveva un bagaglio troppo pesante quindi si è messa più cose addosso era appena tornata da Budapest cosa doveva fa? tipico paese stregato ti posso dire? vai forse vi starete chiedendo e la cugina canadese? ma è vero beh quella mamma se la siamo cagata per niente manco lei però amore il racconto ha fatto apposta in modo che lei fosse margine hai qualche problema con la cugina canadese? non è mai esistita fosse nera saffica beh quella sera della lettera di mia sorella ci telefonò mia zia dal Canada dicendo che mia cugina mentre stava sistemando lo specchietto retrovisore prima di partire con la macchina vide una signora vestita di nero con un velo attorno alla testa che le sorrideva ma quando si girò non c'era più nessuno tornando a casa lo aveva raccontato al padre che nella descrizione capì potesse essere la zia così ci telefonò per farsi mandare una foto e mia cugina confermò che era proprio lei e la donna che aveva visto nonostante mia sorella disse soltanto a me della scoperta del baule quando tornò il giorno dopo con una busta per andare a prendere tutto il suo contenuto non lo trovò più era completamente sparito allora sai cosa che mi fa più inquietudine di queste storie il collegamento spaziale che impedisce il fatto che loro si fossero sentiti poco prima e avessero parlato di questa cosa tipo quando parliamo del sugo e su tiktok la prima pubblicità che ci capita è la mutti qui non è che sei sentito da questa persona quindi la differenza spaziale a mutti se vuole noi passate a go go noi siamo ragazzi che non mettiamo quel tocco di bicarbonato per togliere un po' l'azzilità e soprattutto rustiche rustiche ma le patatine però perché se no le classiche sono le meglio continuo mi inquieta la differenza spaziale tra queste cose e soprattutto io ti voglio fare questo appunto non voglio toccare la questione religiosità perché per me il fatto che esistano queste presenze e il fatto che io possa crederci non implica il fatto che io abbia una fede religiosa o in generale chiunque possa avere questa credenza non implica il fatto che debba essere collegato a paradiso e inferno cioè per me tu perché ne rifandasmi ma perché sono entità ectoplasmatiche che ne so a livello di materia fisica eccetera quella cosa che io mi chiedo è qual è il discrimine perché non tutti fanno questa fine perché si vede solo la prozia cioè perché non tutti diventano entità materiche questa è una cosa che mi interessa mi interessa un sacco tipo super natural ci ha insegnato che devi morire in seguito portando con te un sentimento molto forte quindi persone che hanno rabbia molto intensa odio per rimanere per rimanere sulla terra per rimanere come ectoplasma capito cioè io mi chiedo cos'è che fa il discrimine perché io ci credo nel folklore generico fantasioso è il fatto che tu devi finire qualcosa devi compiere qualcosa post whisper ci insegna che è qualcosa di bravissimo Sandro però a questo punto posso ditte io rimango sempre con quella commissione io morirò sempre con quel pacco di Amazon da dove prende così almeno so che mi rigarandisco e no tu vuoi rimanere ectoplasmatico invece dai per un po' fastidio io no e se poi rimani incastrato per sempre perché quel pacco non arriverà mai no perché faccio in modo perché Amazon ha chiuso a una certa faccio in modo che una mia madre X cioè una persona che abbia dei poteri mi veda e che mi risolva la situazione io non so se vorrei rimanere senza mi sa che io zero capii? zero ciao raga fine no che ho finito penso che io voglio sapere chi piagna e poi quello certo vabbè però guardi dall'alto non stai lì e soprattutto ma dall'alto dove? io altissimo sto cioè nel senso quando è morto no ma soprattutto uscendo dirò siumi ho già deciso questa cosa non lo so io vorrei far un po' tremare la bara capito voglio far un po' fa la ragazza spugli proprio se sei sotto terra trema trema non si accorge nessuno ma do tipo raga il modo più brutto per morire secondo me risvegliassi dentro la bara buried alive no 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 è successo raga hanno trovato le unghie nella bara cioè le sedie unghie sì sì raga no no raga era successo ma succedeva tantissimo anni e anni fa quando comunque non c'era l'autopsia per vedere cose cioè nel senso le cause per e quindi che ne so magari avevano un coma che poi si svegliavano certo però loro erano già sotto terra raga se stiro domani così all'improvviso mi mettete un caricatore e un iphone con me se sa mai sandro assolutamente io ti vedo però che tu la prima cosa che fai è una storia su pov ragazzi oddio allora la storia della prossima settimana riguarderà gli incidenti gli incidenti con me vedete vedete buio tutto nero non è una scelta artistica posso dire sandro la prima cosa che commenterei sono uno stacanovista ti veniamo a prendere non serviva poteva aspettare è finita la storia allora tocca a me e ci scrive oracolo oracolo ci scrive ciao pov chiamatemi pure l'oracolo poi capirete perché piccola premessa la storia che vi andrò a raccontare l'ho scoperta solo pochi mesi fa e chiarisce ho 25 anni quindi sia che il fatto che l'ho scoperta da poco sia il fatto che questa patatina mi fa un quarto di secolo quindi mi sa che c'è una tradizione familiare qualcuno che ha parlato no? vediamo vediamo in pratica mo parla di lavatrici in pratica durante un viaggio in macchina in maniera totalmente random comunque io adoro tutti questi road movie amo zizitiamo e mio padre se ne esce con la seguente storia lui da quando è piccolo intorno ai 4-5 anni e fino verso i 25 quindi attenzione l'età che matcha con la patatina sostiene che si svegliasse nel mezzo della notte perché c'era una bambina che si sedeva sempre sul letto e lo fissava questa è la scena ma da quando dice ma ma da quanto dice la bambina non lo spaventava ma semplicemente se ne stava là a guardarlo e lui dopo un po' le diceva di essere stanco e che voleva andare a dormire e lei semplicemente lo salutava e se ne andava tipo mi madre se sei venuto del bene rimani se sei venuto del male e tutti i super cari porca ma Eva mi continua a cadere sto cazzo di coso questa era sempre la bambina che saluta tranquillamente e va a me gli spiriti così non fanno pao cioè oddio non vorrei comunque avere un incontro così però non è cioè capì è il conquilino educato però non voglio sempre avere super natural come citazione però molto spesso ci insegnano che gli spiriti reagiscono con il nostro stato d'animo quindi il papà magari era stato di grande tempra e reagiva in maniera positiva a questa presenza per cui non la faceva agitare è come quando ti dicono se vedi un orso finiti di svenico il cazzo scappa però nel senso magari lui intrava faceva finta che lei fosse veramente lì quindi non è che faceva oddio che paura c'è una bambina no faceva ciao amux e capito si metteva a sederla e lei diceva ok non c'ha paura il Daniele si è trasformato in Davide quello di TikTok oggi facciamo le tagliatelle oggi facciamo gli spooky torniamo alla storia queste apparizioni ci dice la patatina sono continuate non tutte le notti ma molto frequentemente fino al giorno prima di scoprire che mamma era incinta di me ah quindi questa storia era quando questa patatina non era ancora nella patatina lui sostiene che la bambina in questione fossi io cioè la nuova venuta la protagonista mai nate in provincia mi ha anche fatto vedere un video del mio quarto compleanno dove io esco dal bagno in braccio alla nonna che mi stava preparando e nel video si vede lui che sbianca il papà qua si sviene con la mamma che lo prende al volo e dice che in quel video ero vestita esattamente come la famosa bambina quindi lui c'ha avuto una specie di come si dice quando tipo un déjà vu un déjà vu bravissimo lui c'ha avuto un déjà vu visivo però non circostanziale dove si ricordava che la bambina era vestita come la frichina che la figlia madonna cazzo questo è greve e voi che fate? butto la bambina eh esatto infatti siamo d'accordo noi sparta capito su un pito dai carabinieri buttiamoli in che fiume le buttavano i bambini nel tamigi maschera no nel tigre o nelle ufrate no non era un non era un fiume greco eh sì sì a sparta era nel vabbè 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 dove buttiamo la ziz geography club dal dirupo scegliete voi ora aspetta posso dire dove li buttavano nel taijeto ma no non me la sarei mai ricordato però mi fa ridere perché adesso mi posso ricollegare alla all'intro di daniele perché ho cercato fiume dove buttavano i bambini non so non voglio aprire le immagini che meraviglia e l'ha fatto istintivamente l'ha fatto istintivamente capite c'è sempre quella cazzo di ricerca google che uno fa comunque la patatina conclude dicendo ora io non credo molto a queste cose però comunque anche a distanza di vent'anni a me mi fa piuttosto paura perché è una cosa che riguarda molto specificatamente la mia famiglia ti posso dire qui ritornano le cose del i nostri genitori hanno una autorità riguardo le notizie che noi acquisiamo il fatto che è tuo padre ad averlo visto non è l'amico dell'amico c'è sempre quella componente familiare che a me fa prendere caga sbau perché io a questa storia tendo a credere ancora di più perché c'è una famiglia di mezzo perché è mio padre c'è che motivarebbe di mentire capito io oggi faccio quello delle domande mi sento un po' la pignardi la fagnani dipende che tu hai voglia di essere famosa in che generazione sei ti posso fare una domanda ma come ci si sente essere tu cioè perché sei tu comunque è vero quindi che ne pensi tu perché ne hai parlato ma non tantissimo sul tuo cioè la tua risposta a questa cosa che ne pensi che ne dici dici scrivici questo ci riporta anche un po' la questione del come gli dice Mengoni che giri fanno due vite a quando pare aspetta non rinasce perché quella stava là presso non voglio non è che voglio fare l'ipocondriaca però qui nel senso questa problema nasce nel senso interessante questa storia soprattutto perché è una lei che si vede una questione dello specchio non voglio citare Freud perché per molti è sbagliato io avrei citato Bob figurati ancora pezzo che devo fare ci scrive 68 68 non lo so il marito di Ross Villan 6pm fatto entrare pensavo bravo pensavo facessi una battuta sconcia invece alla fine hai citato il marito di Ross Villan grazie un bacio che non sta con Nicola De Vilidis ricordiamolo che venga molti mo pensano che Ross Villan sta con Nicola De Vilidis se ci scrive 68 ho il racconto perfetto arriva da mio nonno ip68 fino alla morte per quello non è il titolo insomma quando aveva 17 anni gli è morto il papi che sarebbe tuo nonno comunque posso dire posso io dire una roba del genere solo io potevo dire una roba del genere siamo in due adesso abitavano in un castello poiché facente parte di una famiglia nobile e lui tutto spirituale va a fare una seduta spiritica per cercare di contattarlo chi ne sai come funzionano i nobili? ma è Salbern o è la verità? no no stavo dicendo la stessa identica cosa e qualcosa va stotto arriva lo spirito di un militare ah quindi la seduta c'è stata qualcosa va storto arriva lo spirito di un militare che gli dice che è contro ai suoi principi militare pro guerra mio nonno contro non è andato storto si è collegata con la nostra che cercava un militare per uno striptease notturno e ci è capitato a noi invece c'è arrivato il nonno volevamo confermarlo da quel momento noi volevamo il nobile da quel momento almeno uno specchio al giorno si frantumava ma senza staccarsi dal muro ma in che senso? oddio che se crepano Sandro la crepa ma che brutta non si è mai capito se era colpa degli psichedelici o se effettivamente è successo ma fino alla nascita di mia madre quell'uomo andava in giro scalzo con i capelli lunghi fino al culo viola viola il culo e i capelli ah ma poi i psichedelici perché anni 80 l'hai capita? l'amo l'amo e una sacchetta in velluto viola ancora con delle erbe dentro per scacciare gli spiriti quindi era salvia insegna pov esatto era salvia e non fritta inoltre sia io che mia madre abbiamo passato l'infanzia a giocare ogni pomeriggio sotto una enorme piramide in plexiglass costruita da lui per assorbire le energie positive e allontanare quelle negative ps mio nonno era un'icona cazzo posso dire è un'icona perché io dico ma che mal ha fatto a chi? ha costruito una cosa per se stesso all'interno della sua casa poi mi ha mandato la foto raga era un nonno fantastico con questi capelli lunghi fino al culo un marsupietto vestito da dio e quello lanciava le erbe se qualcosa non gli piaceva ti giuro se in 40 anni non finisco così siete tutti quanti liberi di farmi fuori e pensa con una piramide di plexiglass quanti post potevamo fare cioè se la zizzi vedeva la piramide di plexiglass certo oggi giorno Greta Thunberg ci si incula uno dopo l'altro con la sabbia esatto o ci si ovaia perché non è bello dire incula perché non è un verbo no ci si ovaia ma che verbo è ci si ovaia allora scusami allora ti chiedo ti chiedo qual è un giusto dato che molto spesso si dice non bisogna dire ad una donna tu c'hai coglioni per dire che una donna è una donna di carattere esatto io ti dico ma non è che è un uomo visto che sono deboli comunque i coglioni va bene un corrispettivo un corrispettivo non è quella ti si incula quella ti si sditalina ma guarda inculare lo può fare anche la donna alla fine sì il buco ce l'abbiamo tutti eh lo so però vabbè sapete che è va bene ognuno utilizzi il verbo che più gli sembra io volevo fare l'inclusivo mentre voi mi rinchiudete in un ranch di cattività quello che era contro la come si dice l'omosessualità dei lavantini ah beh è vero no io ho solo detto non potendo consigliare un lavantino un lubrificante allora fate in modo che ci sia una pagina ok vabbè l'omofobia latente questo fa io non credo no non è è sistemica siamo nati qui se ha un mio amico se ha un mio amico super dotato se ha un mio amico super dotato lui mi dice guarda ogni volta che provo a fare l'attivo ah ok ci sono i ragazzi passivi con cui lo faccio che magari hanno difficoltà il mio consiglio è guarda prova un lubrificante o a cercare di simulare la situazione affinché una persona si senta a suo agio ma se un lavantino mi viene a dire una cosa del genio usa un lubrificante a base siliconica ma amo di base non penso che il lavantino ti venga a chiedere quest'info però sono contenta che tu abbia aperto tutti gli immaginari possibili ora se quando Zizi mi chiede che fa oggi pomeriggio che ne sa che gli rispondo sempre la verità magari sto parlando con un lavantino adesso se permetti io scrivo alla mia psicologa che tu parli con il lavantino e poi vediamo che succede e se lei ti dice tu non lo fai Sandro sei tu che dà in terapia non io il PS8 te lo vecchi tu Sandro esatto esatto andiamo avanti e chi? io finito la nonnicona no ti posso andiamo giusto un commentino alla patatina se lo merita tutto amo ti invidio perché mio nonno non è così iconico soprattutto cioè no zero io avrei amato il nonno che lanciava le erbe capito che faceva tipo capito speriamo che la nostra pokemon x con l'erba adesso non mi viene in mente super efficace si e petalo danza nel senso magari sei tu a riprendere la tradizione di tuo nonno cioè sei tu un po' sei tu la nonna strage esatto o l'anima wiccan un po' della casa un po' quell'anni 80 però se tuo nonno l'avrebbe voluto amo per contrasto dato che lui aveva i capelli lunghi tu dovresti fare la nonna pelatone cioè ti fai il capello capito a spazzolina e vai o pelatone semplicemente magari un caschetto nero bam così mi piace lo amo si 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 allora tocca a me ci scrive trisha peitas no ti amo mi viene da urlare mi sa che di telegram può essere trisha pe spieghiamo chi è trisha peitas ovviamente fa parte del gruppo di telegram trisha peitas magari no si può dire influencer vabbè fa conti online era una youtuber famosa youtuber dove faceva i macbang lei mangiava dei video principalmente io se ho capito chi è quella bionda si trisha peitas è diventata famosa per il video mi metto 100 strati di sperma finto sulla faccia non so se lo sapevate si si trisha peitas esiste questo sperma finto che viene utilizzato nel pornografia e lei praticamente si metteva 100 strati layers di quei layers di sperma finto finché il video secondo me è iconico vabbè poi è famosa per fare queste grandi mangiate di fast food e cioè lei è famosissima col McChicken in mano che fa what? what? ok ok su tiktok è diventata famosa è bravissima allora trisha peitas cerise ciao pov vi scrivo per parlarvi di un avvenimento paranormale raccontandovi appunto di mia madre quindi il protagonista è la mamma di trisha peitas il racconto vede una me più piccola e fastidiosa periodo elementare mi piace lei che si identifica un po' come la monella l'ho immaginata tipo di di dexter ai tempi ero particolarmente interessata e ossessionata da video stupidi di avvenimenti di fantasmi alimentati dal piacere e divertimento di mio padre nel vedermi osservare basita e scioccata delle foto di eventi paranormali che lui stesso mi mostrava quindi magari un bel avvenimento padre figlia il padre lo prendeva per il culo gli faceva vedere cose ancora che paranormale lei io che pensavo un momento genitoriale invece era semplicemente una paraculata lui la fa bobbing invece niente ma ti posso dire ma la zizia è Didi? sì la zizia è un po' Didi no no non ti piace essere Didi? è molto fastidiosa Didi beh però Didi a parte che è iconica è grazie a lei sai chi è Didi? sai chi è zizi? l'opposto di Kim Possible quella con i capelli ho capito Shigo 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 adoro il personaggio cazzo lei è passata da Arusha a Mora quindi è palesemente lei è Billy come te lo devo dire un giorno chiesi ai miei se furono mai stati protagonisti di eventi simili ci dice Trisha Peitas e mia madre se ne uscì fuori una volta in cui mia nonna vide un ipotetico fantasma e anche qui ritorna la famiglia io quindi ci credo e questa notte dormirò con il cazzo questa era fuori onda mi raccontò che una mattina molto presto mia nonna si alzò dal letto ancora mezza addormentata per fare la colazione a mio nonno visto che doveva prepararsi per andare a lavorare una scena molto tipica mettiamo X avvicinatasi verso la cucina notò una figura di un uomo e nudo quest'uomo vicino appunto alla situazione kitchen-cucina il quale la osservava muto con uno sguardo rattristito ma do ancora peggio però no ti posso dire mi inquieterei se uno spettro mi soridesse io scusa preferirei che fai il cazzo di spettro ho sbattuto no io so per la situazione kitchen che sembra un programma di real time casa prima vista la situazione kitchen posso dire se sono la nonna ogni mattina per fare mamma e marito almeno vorrei che mi sentissi un po' la situazione kitchen real time almeno mi anima un po' la cosa comunque ricordiamoci che lo spettro era rattristito esatto mia nonna ripeto ancora stanca non ci fece molto caso perché era molto stanca Sandro ride della fatica della nonna ricordiamoci il video come cazzo si chiama lo spirito era rattristito bene esatto secondo me non dobbiamo sottovalutare è diventato ride gulp ma si dice rattristito o rattristato secondo me era triste esatto questo totale blu mia nonna ripeto ancora stanca non ci fece molto caso credendo fosse mio nonno appena sveglio ah che si stava preparando la nonna era molto stanca cazzo infatti lo intimò persino a vestirsi velocemente cioè lei che fa lo spettro yam yam fatta vestì in quanto c'erano in casa ancora mia madre e i suoi fratelli perché lo spirito era nudo attenzione uno spirito birichino ma niente la figura non fece assolutamente nulla continuò a fissarla in silenzio finché lei non se ne andò e tornò in camera da letto non è lo spettro che se ne è andato lo spettro ha vinto la gara di sguardi quando appena appena la nonna la nonna cos'era la nonna ha chiuso la porta e lui ha fatto tipo ho vinto cazzo ce l'ho fatta superare le mie paure spettro uno umano a zero ma e lui basta col vino Daniele immaginate la sorpresa che mia nonna ebbe nel vedere il marito intravisto in cucina ancora a dormire nel letto perché la nonna se ne è riandata nella camera matrimoniale tornata a vedere l'uomo tornata a vedere l'uomo se non ho sbagliato lo osservò notando fosse un uomo anziano per poi stropicciarsi gli occhi e non vide più la figura ah quindi aspetta è tornata lui era lì lei mi è andata in camera da letto ha visto il marito ha fatto ma aspetta qua c'è un altro uomo in casa è scesa sotto l'ha rivisto si è stropicciata gli occhi da qualsiasi film ad oro ma non l'ha visto più esatto questa è stata la latenza dello show lui è carino che è rimasto da solo per quei tre minuti quattro minuti perché lui lo spettro ha detto lei non ha avuto la reazione cioè io non soltanto spendo energie per manifestarmi ma tu non hai neanche una reazione e io aspetto qua e me lo meritavo lo stropicciamento d'occhi fa culo esatto la soggettiva dello spettro che attenzione non è possibile ma stiamo a fare il cinema non io ho un podcast scusate cinema bravissimo Sandro la storia non finisce qui da quanto ricordo in seguito a un accertamento della storia ha chiesto a mia nonna quindi c'è stato una nonna me la rispieghi un attimo che magari non me l'hai detta bene lei aggiunse un particolare agghiacciante nel quale lei andata a casa di una vicina vide una foto dell'anziano che aveva visto attenzione però anche qui come nella storia prima c'è un matching della visione e del scoprendo essere il marito deceduto da tempo della signora vicina alla quale una bella denuncia la si fa perché il tuo marito era nudo eh amo però magari ho sbagliato solo a casa magari lo spirito del marito deve andare in un'altra casa però comunque essendo morto è un po' rimba e attenzione lo si può incolpare un morto di questo già è morto infatti ma soprattutto ti vai ti incolpavo il morto ero io abbiamo una parola da aggiungere al nostro vocabolario rimba perché rinco è un po' forte cioè perché comunque è coglionito il continuo invece rimba è un bambito e quindi è un po' meglio amo che rimba che però fa anche un po' quando non hai soldi per andare a Rio de Janeiro ma ti ci vuoi sentire amo che rimba di questa parte non sono certa al 100% ci dice la nostra protagonista della storia cioè quella dell'accertamento in quanto non posso confermare la versione di mia nonna venuta a mancare sei anni fa ok ho provato a chiedere a mia madre ma ha ridotto la storia fino alla visione di questo anziano in casa loro amo però ti posso dire magari è un po' ah no c'è un ultimo pezzo perdonatemi nonostante questa ultima incertezza penso rimarrà per sempre uno dei misteri della mia famiglia più grandi a cui vorrei trovare una spiegazione soprattutto vorrei sapere perché l'anziano fosse nudo in cucina amo però ti posso dire questa è una cosa pure mia mi sento vicino proprio in cucina nudo ah nudo non avevo capito nudo Sandro però tu che comunque fosse venuto in cucina ho pensato proprio perché tu perché ti ricordavi fosse nudo hai detto venuto in che senso fantasma esibizionista non lo sapremo mai posso dirti una cosa ho avuto questa sensazione magari mi sbaglio magari l'essere venuto a mancare tua nonna potrebbe aver cominciato a far vacillare la tua memoria come per dire sai quando nella vita che ne so tu mi hai raccontato una cosa e poi a un certo punto dico ma me la ricordo bene vengo da te e faccio Sandro me la puoi riconfermare però magari era vera non potendo più magari tua nonna ridarti questo match di conferme tu sei andata a mettere in dubbio la tua memoria però io vorrei dirti di assecondarla invece cioè di avere fede su quello che tu ricordassi e non perché tua mamma non può riconfermartelo quindi deve venire meno mi piace perché se no è una parte di memoria che viene persa la gente si ricorda fin tanto che viene ricordata Sandro oh ma ascolta quindi è importante ragazzi scusate è partita intanto sotto ciao Violetta è partito un come si chiama un reel di Violetta Rocks che diceva One Piece quindi se si sente One Piece è Violetta un bacio alla nostra Violetta Rocks ciao che pensavi? no pensavo fosse Martina perché non so perché l'ho cambiata per Martina e quindi no abbi fede nella tua memoria non la mettere in dubbio soltanto perché puoi fare un check anzi ti posso dire segnatela scrivitela in modo tale che non ti puoi mai dimenticare i dettagli e amo se ti va ci sentiamo ci scriviamo un podcast indagliamo insieme ci scriviamo sopra un podcast un po' così un po' spooky un po' paranormal però divertente io lo farei ti posso dire quindi è una puntata di pod ve l'ascolterei totale allora la mia ultima storia ce la scrive invece Britney Spirit che è un po' un film d'animazione un po' un club comunque l'ha scelto il soggetto della storia o tuo Zizi? l'ha scelto il soggetto geniale Daniele io ti posso dire ti devo dare un merito enorme mi hai fatto pisciar sotto quando hai detto che se una persona non ci scrive lo pseudonimo la Zizi che lo dà d'ufficio io non lo so cioè a me Zizi te lo dà d'ufficio infatti un sacco di persone mi hanno scritto pseudonimo assegnato dall'ufficio per farmi capire che lo devo assegnare io io te lo giuro assegnato d'ufficio io mi sono sentito male mi sono sentito in Orange is the New Black mi sono sentito un attimo capito la Pignardi che fa un'inchiesta sulle carceri capito quelle cose lì ora ci rimane c'è un dottore in sala e il mio avvocato si farà sentire quelle cose che uno vuole dire prima di morire anche insegua con la macchina il mio avvocato si farà sentire raga lo dirò io io me lo sento e Sandro inseguite con la macchina totale io vorrei faccia un dottore in sala ma non per me quindi è Marti che tu non puoi dire perché sei quella che c'è bisogno di un dottore e il cerchio si chiude vai Sandro allora ci scrive appunto Britney Spirit vi vorrei raccontare questa storia che ad oggi penso sia la più paurosa che mi sia stata raccontata perché riguarda mia madre o è la family è comunque la cosa e quindi le credo al 100% secondo la taurignana visione della vita eccoci mia madre viene da un paesino super cattolico in Campania e quindi il fatto che questa storia sia avvenuta proprio lì me lo rende ancora più credibile ragazzi ma vi siete scolaci una bottiglia di vino sei due e me no 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 vai Sandro ho dato prima un bicchiere a Peppe ci ho fatto prima di entrare io non berrò più perché sia mia madre che mia zia che un'altra mia zia mi hanno detto ma quanto bevete? io ti dico prozia raga meno la mia famiglia è disfunzionale perché invece mia mamma mi fa vi divertite eh? ah è pronto in video cioè io poi un bacio mare un bacio silvio commenterò questa cosa torniamo in Campania dove è successa questa cosa spooky mamma viveva con la sua viveva con la sua io ho un problema con l'imperfetto con l'alcol no con gli imperfetti viveva ve lo giuro raga mi viene da morire mamma viveva con la sua famiglia e con sua nonna paterna che purtroppo era nata cieca e quindi essendo avanti con l'età e in più avendo questo handicap è sempre stata in casa con loro per far sì che l'aiutassero ma do però amo vedi anche qui parente che non vede senso ulteriore ma ve lo devo dire è tutto così vai ma sono io la famiglia noiosa quindi fatemi capire beh però nessuno è cieco io avevo cioè io non ero ancora nata ma mia mamma aveva un pappagallo che aveva imparato il linguaggio dei muratori che stavano sistemando case e quindi bestemmiava ogni volta che passava colturo e ti posso dire l'unico evento paranormale io ci avrei basato la mia personalità su sta roba capito ti posso dire un'altra cosa che mi insegna sempre mia mamma allora mia mamma è persone energetiche eccetera e dice che questa cosa l'ho acquisita anche io esatto quindi io in realtà ho secondo mia madre delle qualità sovrannaturali che però mia madre identifica sempre con una questione di energia non per forza Gesù eccetera e via una cosa un po' atea mettiamo nonostante sia fortemente come diciamo che mi ammazzano cristiana cattolica secondo mia madre le persone che hanno queste tendenze energetiche tendono ad avvicinarsi a persone che hanno le stesse e che non deve essere per forza una cosa tramandata ma potresti anche averla acquisita tu da questo momento in poi del tuo arbero genealogico e se io secondo mia madre lo sono in maniera indiretta non soltanto perché siamo amici ma anche per POV lo siete voi tre quindi Sandro sei speciale vero? è per dirti che probabilmente se mia madre ha ragione tu sei una sciamana io ti ringrazio una ninjarco se per mia madre sei qualcosa io ti ringrazio ma Silvana mi ha già detto che comunque un feeling con legno ce l'ho quindi in caso sono la principessa del legno cioè una cosa del genere e anche la fica di legno invece a me Silvana ha detto che ho una fortissima empatia con le persone che però mi distrugge cioè io sono talmente empatica e mi metto talmente tanto nel coso dell'altro che poi faccio capi? è totale è vero può essere quindi è la principessa dell'empatia io del legno e tua mamma Martina la ringrazia perché va sempre il bis è un coglione è la principessa del bis tua mamma ha spaventato perché nel mio periodo più brutto mi ha abbracciato tutti perché stavamo andando via da casa di Daniele perché lui si ospita ogni anno e Silvana mi fa riguardati mi raccomando e era il periodo mio più brutto e poi mi sono riguardata e sono stata meglio ma che paura comunque no mi aveva detto parla di più parla di più io mi incazzo perché mia madre comunica proprio poi sono andata allo psicologo infatti eccoci dove ha parlato quindi mia madre uno l'ha fatto spendere soldi e seconda cosa mia madre non ha già scritto una storia mamma hai avuto due puntate per scrivere una storia spooky tu con me come dicono esatto l'ultima sempre della Silvana che a un certo punto stavamo a tavola ci guarda tutti dritti negli occhi a un certo punto però la vedete tipo che si aggrappa al tavolo e fa chi ha un baule nel corridoio ed era Alice mi madre c'ha sempre questa cosa dove ha delle che l'hai detta sta cosa del baule però ti ho detto un baule nella camera non sì se non mi sbaglio di colore specifico e c'è un oggetto che ti richiama esatto perché io avevo fatto il parallelismo con Silente che va da Voldemort quando era ragazzino che gli brucia l'armadio perché aveva rubato l'oggettino all'amichetto vedi totale tu stai attendo tu prega ma tu non ti rendi conto quando vieni a casa mia tu c'hai sempre l'impressione in un momento all'altro che mia madre possa mettere gli occhi sopra e fa Sandro ma hai delle sneakers verdi? e tu fai oh cazzo sì che è successo? ti dice la marca esatto l'hai comprato col 25% di sconto capito allora torniamo a Britney Spirit è sempre la mamma insomma la storia della nonna cieca giusto la nonna paterna che è la cieca come ogni adolescente che si rispetta c'è un periodo in cui tutti quanti sono interessati o sentono parlare della tavola Ouija e questo successe anche a me e anche a mia madre scusate questo successe anche a mia madre vabbè a livello transitorio e ad una sua amica che sentirono parlare di questa tavola e spinte dalla curiosità decisero di voler provare a costruirla e sempre per gioco di provare ad usarla a costruirla loro comunque proprio crafting quella la compri se no o hanno visto il DIY su YouTube tavola Ouija Ouija table e hanno fatto sta cosa e non sapendo dove potersi vedere per usare questa tavola mia madre propose alla sua amica di andare a casa sua dato che i suoi genitori non c'erano e a casa ci sarebbe stata semplicemente sua nonna cieca comunque spero che non sia una di quelle madri che faccia tipo ma mia figlia non deve fumare perché altrimenti farei tu richiamavi gli spiriti io faccio cose meno pericolose questo è l'incipit dei piccoli brividi comunque nonna cieca non c'è nessuno a casa di conseguenza di conseguenza loro sarebbe bastato entrare in casa e poi andare in camera per usare la tavola senza che sua nonna se ne fosse accorta e certo sperando senza far rumore perché questa entra campanello cioè comunque la nonna sente vabbè speriamo che la nonna avesse anche la porta chiusa a chiave cioè tuteliamo la bisnonna ancora più strano perché di solito quando tu arrivi non ti vuoi far sentire scrivi all'amica oh so sotto apri su whatsapp ma non c'era whatsapp come hanno comunicato questo comunque dimostra che ha avuto Grindr sta solino sulla finestra magari semplicemente sono arrivate insieme non lo so perché ti stai facendo tutte queste puoi andare avanti e non fare teorie cospirazioniste questa è la puntata saffica e delle congetture tutte mie no no condivise però con la congettura anche tu hai ragione giusto giusto si organizzano quindi per il pomeriggio stesso come si sono organizzate si sono viste si sono scritte hanno usato un gufo no perché il po' vede la nonna si sono arrivate ste due solo che non l'ho vista e preparano grazie mamma mia allora si organizzano quindi per il pomeriggio stesso e preparano la scuola la tavola Ouija in un modo super rudimentale disegnare e disegnare ma posso chiedere i professori dove sono? cioè mamma ma parliamo di cioè la mamma comunque quindi saranno state mamma piccola anni 60 peggio dove li mettevano sui ceci oggi fanno il professore zitto vaffanculo ai tempi ai tempi che se eri distratto tre secondi ti mettevano sui carboni ardenti quelli stanno a fare una tavola Ouija magari c'è l'ora di educazione artistica prof totale io metto a fare la tavola noi sai che ti dico disegniamo cose nostre preparano la tavola Ouija in un modo super rudimentale disegnandola noi poi stiamo prendendo così ah perché voi eravate usciti l'ultimo anno mio in quinto c'era la charlie charlie sei qui oh mio mamma si disegnavamo sta croce e poi c'erano che c'erano c'era il si e il no e praticamente dovevi mettere la matita le penne bravissima mamma totale me lo ricordo charlie charlie are you here che poi con il nostro inglese dell'epoca era charlie charlie are you here che fai charlie dissero che a charlie molti rispondi molti non rispose perché non capisse charlie stava lì pronto solo che sentivano are you here in che senso se posso dire charlie nato a brighton mi diceva pure il cazzo a sentire un are you here se devo essere vocato almeno vorrei farlo da madrelingue che cazzo allora quindi le amiche fanno la tavola ouija in modo rudimentale disegnandola su dei fogli e decidendo di usare al posto della lente un bicchiere di vetro e dopo scuola si dirigono verso casa di mia madre salgono le scale e nel momento in cui entrano in casa mia madre saluta sua nonna che però contro ogni previsione inizia ad inveire contro urlando che cosa hai portato in questa casa esci subito no no la puoi rifare ti vedo che cosa hai portato in questa casa che cosa hai portato in questa casa esci subito che volete fare ma siete impazzite queste cose in casa mia non devono entrare Sandro ma la nonna è Doardo Zaggia o è Katia hai appena fatto Zaggia mia madre e la sua amica si guardarono terrorizzate perché non si non si riuscirono a spiegare come la nonna avesse percepito qualcosa pur non potendo vedere e in più la tavola disegnata sul foglio era riposta nella borsa e quindi si convincero che la nonna avesse percepito qualche presenza negativa e decisero di distruggere la tavola e non provarono mai più a giocarci ma la nonna cieca che inveisce io raga me la sogno tutte le notti sai come l'ha immaginata come il fantasma di Priscida Corbonero o la figlia quella che quando va fa come fai a saperlo che stava così lui era come te poco tempo dopo la nonna morì ma tra lei e mia madre ma tra lei e mia madre non si parlò mai più di quell'argomento e mia madre ancora oggi si chiede cosa abbia potuto percepire di negativo ma spinta dalla paura non ebbe mai il coraggio di chiederglielo madonna beve pure quello tu lo vuoi no no io ho smesso per rispetto dei miei genitori cazzo io non ho parole allora forse questa è la più spucchi di tutte perché comunque la nonna non poteva vedere quindi nel senso come facevano cioè loro erano rimasti impressionati anche perché come facevi a sapere che non avessimo questo ma poi pure se poteva vedere che cazzo vedeva a raggi X dentro la borsa vero sì allora io poi quando sento comunque le nonne che impazziscono così mi viene sempre il punto di dire nonna pastichina sono le tre ci ha capito dopo pranzo mia nonna dice che ogni mattina mia mamma alle sei va a nuotare al lago di Varese è convinta di questa cosa assolutamente non vera però se per voi è una forma di demenza per me è una forma di demone invece quindi per me non è demenza ma è demone la diri demone è totale è verissimo quindi se vedo una donna o una nonna urlare no donna no nonna urlare che comunque una donna comunque impazzisco quindi amo noi vorremmo un tuo per tu io continuo lì sono sempre lì tu per tu con la mamma della nostra amica della nostra patatina perché voglio sapere di più della nonna cioè cosa ricorda proprio di quel momento possiamo fare un attimo un sunto del di tutte queste due puntate ecco in qualche modo anche utilizzando questa patatina qui la terza parte dovrebbe cioè impediamo di raccontarci storie familiari cioè deve essere una cosa che non è successa a tu madre a tu padre a tu fratello è una cosa fuori dalle mura domestiche esatto sto scherzando qual è il leitmotif che unisce queste storie la famiglia la famiglia che abbiamo scoperto anche nell'altra puntata quindi facciamo un po' un sunto generico la famiglia la nonna perché anche la volta scorsa c'era la nonna che aveva cominciato a stare male perché era stata indemoniata dopo aver visto il testo tra le nuvole quella me la so ti posso dire proprio stereotipo c'è proprio narrativo della signora uguale c'è la nonna i nonni uguali demoniaco insomma perché vicini alla morte questa puntata è la prima volta dove ad esempio c'è un componente maschile sembra che la spookiness sia femminile sia una componente genetica femminile ora non è che voglio fare quello che cultura anche lì perché streghe diversifica per gender perché comunque tutti possiamo essere streghette però sembra sempre che è la parte femminile la mamma la nonna anche se c'è una storia sul papà oggi sì oggi c'è una storia sul papà ma anche oggi abbiamo figlia sorella cugina tutte e tre che vanno a fare la casa poi la zia a chi va a trovare la nonna la prozia la nonna comunque è vero una cosa un po' femminile secondo me è anche vero che appunto se sono nella cerchia familiare le rendono più credibili capito però sai che cosa mi fa ridiamo che anche la questione del a chi bisogna tramandare le arti occulte dell'olio nell'acqua capire se t'hanno mandato la maldivisione è sempre la nonna e molto spesso è il primo genito donna o forse perché è una sorta anche di retaggio maschilista perché sono cose da donne secondo me un po' sì ahimè però in realtà è sempre questa componente femminile a traghettare cioè il nonno fa gli innesti pensa a cosa fa con le nespole e lei invece toglie il malocchio nel senso tipico ognuno ha il suo ruolo in famiglia one on one proprio io sono Giorgia sono una donna io sono Giorgia sono nespola esatto beh caspita e mi hanno fatto tanto riflettere queste storie di queste patatine abbiamo cacciato veramente un bel quando si fa una parte due è perché è buon segno è buon segno che è una bella una bella storia e posso di piazzevole vedere perché sono proprio in gamatico questi tipi di storie quindi leggere le storie di persone appassionate slash ingamate slash paurose io adoro e poi come dicevamo anche off camera ci sentiamo di ringraziare perché dato che riguardano le famiglie vi ringraziamo sempre il fatto che vi sentite di volercene parlare perché tralasciando le risate e tutto che comunque condiscono un pop of vi fidate di sapere che noi tratteremo certi discorsi quindi comunque grazie perché mai dato per scontato dell'apertura esatto e Sandro dov'è che si possono aprire con noi queste patatine comunque sempre e comunque però prima quando 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 esatto tu dimmi quando 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 se vi è piaciuta questo tipo di puntata io tornerò di domenica esatto perché alle 15 ne trovate un'altra sempre e comunque ogni mercoledì alle 19 un potevi non saperlo con il suo link a me e Sandro dove? io direi Spotify Apple Podcast Amazon Music YouTube con il video anche se non avete YouTube che sono le uniche due piattaforme con le quali potete fruirci video oltre che audio e poi se vi piace invece intertenerci con noi pubblichiamo cazzatelle non solo anche cose belle tipo le grafiche della Ziz ci trovate su Instagram e su TikTok mentre vi diciamo sempre voto Patas Brins su Spotify oh stiamo quasi a 2K raga acceleriamo il processo che vi devo dire no? sono io già è molto accelerato ma Sandro vuole sempre di più Instagram seguite zicazzo allora esatto che cosa c'è altro da fare su commentate commentate mi sento una pellegrina un attimo una di quelle ragazze che persa persa esatto ritrova la via per Santiago e la puntata è finita questa è andate in pace e professate sempre perché c'è sempre un demone pronto all'ascolto miau miau è qualcosa che fanno i demoni che fanno i demoni che fanno i demoni